ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo assaggiamo ho fatto un grosso errore che è stato quello di entrare in un negozio un pochino particolare che hanno aperto da relativamente poco qui da me ho fatto anche l'errore ancora più grave di buttare un occhio al frigo dove avevano delle bibite e purtroppo ne avevano di alcune un po particolari che non ho potuto non comprare una di queste è questa la bibita chupa chups al gusto fragola e crema panna penso vi faccio vedere un pochino da vicino la confezione come per l'appunto vedete che è il regno del rosa chupa chups alla fragola e crepanna vi faccio vedere anche il retro con appunto gli ingredienti e i valori nutrizionali sarà una bomba di zuccheri questa qui e vi faccio vedere anche il resto la cosa più curiosa è il fatto che è un prodotto coreano essendo una lattina quindi non conoscendo il colore del contenuto andremo a versare in un bicchiere io me l'aspetto rosa quindi se non è rosa rimarrò veramente molto molto delusa e poi andiamo ad assaggiare solo l'odore sa proprio di quasi big bubble alla fragola quindi direi che promette molto bene bicchiere e lattina andiamo a versare e vediamo un po cosa succede in camera non si noterà molto ma sembra bianco ma è un rosino veramente molto molto pallido quindi decisamente deludente come colore andiamo ad assaggiare sa sostanzialmente di zucchero quindi di caramella alla fragola e panna niente di assolutamente esaltante anzi non è nemmeno super gasata in realtà quindi molto molto mediocre la cosa assolutamente che mi ha deluso di più è il colore perché mi aspettavo un rosa super acceso invece appunto come l'avete vista è quasi color latte è un latte leggermente sporcato con un po di rosino quindi ragazzi direi che non ve la consiglio se volete se proprio volete provarla prendetela però veramente io non ve la consiglio assolutamente se avete questo se avete trovato questo video interessante di intrattenimento un pochino lasciate un bel like vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video se l'avete provato magari o magari avete visto anche altri gusti fatemelo sapere perché ho trovato solo questa come bibita chupa chups ce ne saranno altre però ma me le tengo nel tempo come video tra virgolette tappabuchi qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video have a nice life